Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure catolari personali emesse dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di 10 soggetti gravemente iniziati dai reati di detenzione e cessione in lecce di sostanze superfacenti e detenzione e porte legali di armi da sparo. In particolare è stata applicata a 7 indagati la misura della custodia catolare in carcere a due donne, la misura degli arresti domiciliari in quanto madri di figli minorenni di età inferiore ai 6 anni e a un indagato la misura di divieto di dimora Torre Annunziata in tutta la provincia di Napoli. La misura catolare è stata eseguita nei confronti di 9 dei 10 soggetti destinatari della stessa, mentre un decimo indagato destinatario della custodia catolare in carcere è tuttora attivamente ricercato. Contestualmente sono stati eseguiti con il supporto aereo fornito dalla sezione aerea della Guardia di Finanza di Napoli 14 decreti di perquisizione domiciliare nei confronti di altrettanti indagati, 8 dei quali sottoposti a misura catolare, emessi da questa procura della Repubblica. I provvedimenti sono stati messi all'esito di un'articolata indagine espletata dal gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata e coordinata da questa procura della Repubblica fin dai primi mesi del 2020, che si è aggiovata della costante attività di osservazione e controllo da parte della Polizia giudiziaria all'interno del riore murattiano di Torre Annunziata, dove è stata accertata l'esistenza di una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno permesso di accertare l'operatività in via Sambuco di Torre Annunziata di tre piazze di spaccio di sostanze stupefacenti, in prevalenza cocaina e crack, nelle quali nel periodo oggetto di investigazioni sono state documentate oltre 300 sessioni di stupefacente che non hanno subito alcun alentamento o battuta d'arresto, neppure nei periodi di restrizione dovute al lockdown conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, come testimoniato dal flusso costante nell'arco della giornata e fino anche in orari notturni di acquirenti della sostanza stupefacente. Le attività investigative hanno oltresì permesso di documentare anche la fase di approvvigionamento delle piazze di spaccio effettuata da due degli indagati generalmente a bordo di alcuni motocicli che cedevano ai gestori delle piazze le sostanze in corsa, ossia senza nemmeno fermarsi, al fine di evitare di essere sottoposte a controllo. Nel corso delle indagini a marzo 2020 uno dei soggetti destinatari del provvedimento custodiale odierno era già stato arrestato in fragranza di reato mentre prelevava da un nascondiglio ubicato in un edificio in rovina 72 grammi di cocaina. Inoltre alla luce delle evidenze investigative raccolte dalla Guardia di Finanza due indagati destinatari dell'ordinanza cautelare sono gravemente indiziati dei reati di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo per un episodio verificato sul 20 giugno 2020, allora quando vennero esplosi tre colpi di pistola verso la finestra di una delle abitazioni di vita piazza di spaccio di sostanze stupefacenti.